Ciao ragazzi, ci vediamo in finale, forza IT! Tutti a Istanbul, tutti a Istanbul, tutti a Istanbul, vi mando un saluto. C'è i miei giuri, c'è i turisti, eccoci qua, abbiamo vinto la semifinale, ci vediamo tutti a Istanbul, 10 giulio. Eh, forza IT! Ci vediamo a Istanbul, grandi! Andiamo, un'altra finale, tutti insieme. Allee!